Lei chi è? E da dove vieni? Cosa fa? Ci riguarda la scena e l'attenzione del Principe, ma come si permette, forse crede di fregaci, ma non sa che trovere qual modo di cacciarla. Vieni qua! Lei chi è? E da dove vieni? Cosa fa? Ci riguarda la scena e l'attenzione del Principe, ma come si permette, forse crede di fregaci, ma non sa che trovere qual modo di cacciarla. Lei chi è? Forse volo il trono e pare che già ci stia riuscendo, ma non sa che per un futuro re, Cirono e Delanco, mio sovrano, troverò certamente il modo di cacciarla. tagli e deloon! conhezione del 진행emente delapsi Adesso everto e Returna, ha un potoайн ergno e corregaci, ma non sa che trovere qual modo ma di cacciarla. affronta la scena e in l'attenzione del calling richardemente il אנes e del gospel re, non sa che trovere qual modo di cacciarla. Mi deve vieni, ma non sa che troverà eh quel punto di cacciarla. Ricorda la scena e l'attenzione del carbo, che troverà, che troverà. Nei provi? St. Adesso. Non è il mio posto, ma cosa credevo? Ma cosa speravo? Mia di qua, mia di qua, mia di qua, niente può cambiare, mia di qua, ma cosa credevo? Mia di qua, certo io sognavo. Mezzanotte mia di qua, mezzanotte mia di qua, mezzanotte mia di qua. Grazie.